Al ristorante Piola di Toronto sono ora esposte sei fotografie d'arte, immagini uniche come fossero dipinti, come le sculture, fotografie d'arte firmate da Neil Barbisan, un giovane veneto di 29 anni, originario di un piccolo paese in provincia di Treviso che si chiama Paese. Raccontaci questa passione per la fotografia, da quant'è che la coltiva? Ho cominciato a fotografare perché avevo trovato a casa una vecchia macchina di mio padre e un libro. Studiando il libro, provando quella macchina mi sono innamorato e poi il passo successivo è stata la camera oscura, fatta a casa, nel bagno, poi nel frattempo ho cominciato a lavorare come fotografo e sono andato a studiare all'Accademia di Belle Arti di Venezia e quindi tutto è stata una conseguenza. Ma la storia di Neil è simile a quella di molti giovani italiani in gamba, è venuto da solo in Canada con una valigia piena solo di buona volontà, una fuga dalla crisi economica italiana. Mi sento un giovane in fuga, sono fuggito infatti dal mio lavoro di fotografo in Italia per i problemi economici principalmente, per la difficoltà di trovare lavoro, clienti, di farsi valere come fotografo con tutto il proprio portfolio. Negli ultimi anni è stato difficile. Qui in Canada penso che ci sono molte opportunità, ci sono molti giovani che come me sono talentuosi e quindi c'è un po' più di challenge, però penso che ci sia spazio un po' per tutti e vale la pena provarci. Le fotografie d'arte di Neil suscitano una varietà d'emozioni, invitano l'osservatore a guardarle più da vicino per coglierne i particolari, l'energia, fotografie suggestive e drammatiche allo stesso tempo. Io cerco di cogliere quello che mi viene dato dalla città, dall'esterno, da quello che mi circonda, dalle situazioni che vivo. Infatti la maggior parte delle volte il mio lavoro è basato su ciò che mi sta attorno, dalle situazioni che sono parte del mio vissuto in modo molto semplice. Quando una persona completamente estranea al fatto vede qualcosa nell'immagine, pensa al suo vissuto, vuol dire che mi sento realizzata perché ho raggiunto il mio fine. Le sei fotografie sono esposte al ristorante Piola su Queen West a Toronto e lo saranno fino a fine mese, una mostra voluta fortemente dallo chef di Piola, Marco Artini. Questa è proprio una combinazione perfettamente italiana, arte e cibo. Sì, esattamente, infatti è un connubio che adoro particolarmente. Qua a Piola facciamo periodicamente, abbiamo uno spazio dedicato appunto che si chiama Art Inside e facciamo delle esposizioni una volta al mese, una volta ogni due mesi di artisti differenti che si propongono. E dato che Neil è un grandissimo amico, è un bravissimo fotografo, un grandissimo professionista, ho voluto, proprio gli ho chiesto esplicitamente di darmi l'opportunità di esporre i suoi lavori qua. Secondo Neil Barbizan, l'arte fotografica è saper cogliere l'attimo fuggente, saper catturare l'istante. Cerco di essere pronto con la camera, come un cassatore, un colpo deve essere una preda e in questo caso è l'immagine che voglio cogliere, deve essere colpita subito. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un fotografo viaggiatore a tempo pieno, anche quella una professione, un'immagine, una realtà da catturare. Firmato Neil, Neil Barbizan. Firmato Neil, Neil Barbizan.